Questa Final Four si sono qualificate ovviamente le prime quattro squadre d'Italia di questa categoria, cioè le Lady 45, cioè giocatrici che hanno più di 45 anni. Il girone finale si compone di un girone all'italiana, quindi ogni squadra incontra l'altra. Abbiamo tre giornate di gara in cui ogni circolo incontra un altro circolo. Alla fine si stirerà la classifica e chi ha vinto più punti o chi ha vinto più partite vincerà il titolo di campione d'Italia. Preso il via questo campionato italiano a squadre Lady 45 qui a Città Sant'Angelo, come sono andate i primi match? Assolutamente bene, questa mattina siamo arrivati di buona ora perché le atlete si sono allenate prima di iniziare a gareggiare, quindi hanno fatto un'oretta di allenamento. In campo abbiamo delle atlete ovviamente di indiscusso valore e che in questo momento stanno conducendo entrambe sia il Circo Dance Firenze che il Circo Dance Matchball Firenze. Entrambe sono in vantaggio nei primi due singolari, ovviamente poi aspettiamo il secondo singolare e poi il doppio. Ho iniziato l'anno benissimo, sono riduce da vittoria ai campionati europei in Croazia e quindi insomma faccio il circuito ITF senior. Insomma sta andando molto bene, sono appena stata convocata dall'Italia, quindi rappresenterò l'Italia ai prossimi mondiali per nazioni che saranno a Lisbona in agosto. Quindi diciamo il sogno si è coronato col fatto che vestirò la maglia azzurra, quindi poi venire qui è bellissimo, rappresentare il mio circolo il Matchball Firenze, quindi è uno degli appuntamenti più importanti dell'anno per noi e quindi ce la viviamo come una festa e quindi felice di essere qua.